carissimi buongiorno buonasera ben ritrovati e con onore che faccio questo video sono veramente lusingato e onorato di alcuni vostri commenti e da alcune mail che ho ricevuto in cui apprezzate le mie pipe e mi chiedete e mi fate alcune domande del tipo se le vendo che tipo di legno uso e quant'altro ecco quindi questo è un video che risponderà un po a tutte queste domande che mi avete posto intanto veramente grazie e sto fumando una mia pipa è una pipa in ciliegio ecco io uso principalmente radica radica calabreso toscana faccio le pipe esclusivamente solo per passione non è non è il mio lavoro faccio tutt'altro io sono un imprenditore e però ho cominciato per gioco a fare delle pipe avendo trovato dei pezzi di radica da un negoziante e da allora non ho mai smesso sarò molto sincero oggi non ho fatto più di 12 13 pipe di solito faccio appunto le pipe solo quando ho tempo le faccio praticamente solo per me in realtà però mi farebbe piacere dare delle mie pipe a qualcun altro per ora ho dato delle pipe solo tramite conoscenze o tramite persone vicine o amici di amici però sono apertissimo e pronto se 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 hanno avuto questo successo tra di voi a poterne fare anche altre per quanto riguarda i legni ho tutte del ecco per esempio potete anche vedere la radica e alcuni pezzi di legno su cui io lavoro questo è una radica calabrese sono tutti pezzi invecchiati almeno tre anni questo è un bellissimo ciliegio pronto per essere lavorato questi sono degli abbozzi questo è un'altra radica bellissima guardate che fiammatura questa è bellissima ecco sui tempi non ho idea perché appunto lavoro un po' quando 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 posso però volentieri posso pensare anche di farvi delle pipe delle pipe su misura per voi rispetto magari avete visto una bozza che vi interessa che vi piace se se mi chiedete se mi chiede questo un olivo bellissimo se mi chiedete di farvi qualcosa in particolare posso credo di poter fare anche più per su misura che credo sia una cosa particolare divertente magari posso anche farvi metterò qua sotto come sempre la mia mail e farvi vedere anche la pipa in costruzione questi sono i pezzi che uso io queste ebanite pezzi che questo invece sono i pezzi che uso per fare i bocchini oltre a avere dei bocchini prefatti questo è una pipa in olivo che sto ultimando ovviamente è molto molto indietro però guardate che bei disegni che ha insomma quindi volevo ringraziarvi dirvi che sì sono a disposizione per provare a cominciare a esaudire anche qualche qualche desiderio di qualcun altro anche perché comunque voglio dire ormai o in questa casa stanno le pipe o ci stiamo noi insomma perché ne comincio a avere veramente tante farle mi provoca comunque un enorme piacere quindi perché no sono a totale disposizione alcuni di voi mi hanno chiesto giustamente come facciamo a sapere che sono fatte da te che sono pipe fatte bene ecco questo è una domanda divertente apprezzo la franchezza di alcuni le pipe sono fatte assolutamente da me che io posso certificarne la qualità posso solo dirvi che la radica è di ottima qualità poi ovviamente sono fatte a mano quindi totalmente a mano e da me che non è che sia un enorme esperto artigiano ma semplicemente un uomo di grande passione però insomma ovviamente sono fatte a mano ci sono piccoli difetti ovunque in primis saranno tutte ovviamente non perfettamente centrate o quant'altro ma si parla di millimetri voglio dire come tutte le pipe fatte a mano ho delle pipe di di tantissimi artigiani di altissima qualità che sono fatte a mano e ovviamente hanno loro difetti ma non sono difetti sono anzi i pregi rendono la pipa unica ovviamente ecco un'altra cosa dei miei sono sono pezzi sono pezzi assolutamente unici che faccio un po' a estro sono un freehender d'assoluto nel senso che uso semplicemente carta vetrata raspe da legno e un po' di dreaml però voglio dire vado veramente al sentimento quando vedo il disegno della radica o quando vedo il disegno di qualche bel pezzo di olivo niente lo seguo e cerco di tirar fuori quello che quello che viene ecco anche per questo dicevo che magari è possibile fare anche qualche pipa qualche pipa su misura nel senso che se voi mi chiedete una forma piuttosto che un'altra io posso provare a farmi ispirare da quello che mi chiedete ecco questo questo è quello che quello che faccio niente sono veramente contento e onorato che mi abbiate scritto e fatto queste domande perché comunque è piacevole perché comunque una cosa che faccio con tanta passione lavorare alla radica è qualcosa di straordinario perché emana un'energia incredibile e l'odore che fa la radica quando la lavori con la carta vetrata è unico ecco quindi solo questo sì le faccio io sì sono legni straordinari che ovviamente prendo da segantini rinomati in italia peraltro in italia abbiamo le migliori radiche che le invidiano da tutto il mondo quindi sì le faccio io sì ho ottimi legni sì sono radiche invecchiate almeno tre anni no non posso garantire la qualità nel momento in cui la qualità dipende se vi piacciono o no le pipe che faccio insomma la qualità del legno è ottima quindi la fumata sarà sicuramente straordinaria le forature sono ovviamente tutte calcolate perfette rispetto al lavoro che dovrò andare a fare quindi sì la pipa fumerà perfettamente sarà bella e perfetta dipende da quanto bravo sarò io e dipende da se riuscirò a risaudire i vostri desideri certo è che sarà un pezzo unico questo è poco ma sicuro ecco detto questo vi saluto vi ringrazio e spero di aver risposto a un po di domande che mi avete fatto sia nei commenti sotto i miei video sia via mail rimango sempre a disposizione metterò sotto ovviamente come sempre la mia mail e anche il mio contatto instagram se andate su instagram potete vedere anche alcune fasi di lavorazione perché ogni tanto posto le foto di lavorazione e niente vi saluto e andrò a disegnare questa straordinaria placca di radica grazie ciao a tutti